Grazie. Buonasera, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutte e a tutti. Credo che possiamo iniziare, abbiamo un tempo abbastanza limitato, iniziamo abbastanza in orario. Questa sessione si impernea su un termine importante, la parola revisione, che si caratterizza per aspetti contrastanti. Da un lato le revisioni implicano un miglioramento più o meno significativo delle statistiche. Si usano nuove basi dati più accurate e più dettagliate, si affinano i metodi di stima, si definiscono con più precisione i fenomeni economici, cercando di inseguire una realtà che è sempre difficile per i misuratori seguire. Quindi un aspetto è il miglioramento, l'altro aspetto è quello che non ho problema di definire, un incubo. Un incubo per i produttori delle statistiche che le revisioni devono applicare e un incubo per gli utilizzatori che le statistiche devono raccontarle, interpretarle. E spesso le revisioni sono tali che gli utilizzatori devono reinventarsi delle storie che avevano raccontato prima, perché il mondo è diverso da quello che avevano raccontato. Quindi stiamo parlando di una cosa al cuore della statistica ufficiale. Ora, revisioni, qui in gran parte siete tutti statistici, quindi non racconto nulla che non sappiate, però ci sono diversi gradi di revisione. Per usare il termine inglese abbiamo le revisioni di routine, che sono quelle che fate voi, produttori, abitualmente ogni volta che viene diffuso un nuovo dato, quindi si va indietro fino a 3-4 anni, rivedendo le sede storiche, per incorporare quelle informazioni di solito strutturali che arrivano con maggiore ritardo. Poi abbiamo le revisioni di benchmark. Le revisioni di benchmark sono di prassi su tempi più lunghi, di solito ogni 5 anni. L'ultimo benchmark è stato nel 2019 e nel settembre del 2024 ci sarà il prossimo benchmark, la prossima revisione di benchmark. Qui si integrano nuove fonti che sono diventate nel tempo disponibile, si adeguano gli standard metodologici a quelli fissati nei manuali, svolgendo gli ultimi affinamenti necessari. Le revisioni di benchmark sono una grande possibilità per gli istituti di statistica, perché possono andare indietro nel tempo, quindi non si rivede solo gli ultimi 3-4 anni, ma si rivede più indietro possibile, in maniera tale da garantire la coerenza delle sede. Poi ci sono delle revisioni che possiamo sempre considerare di benchmark, ma che sono assai più rare, che sono quelle dei manuali. I manuali sono le tavole della legge della statistica, alle quali ci dobbiamo adeguare per produrre statistiche che siano solide e comparabili. Questo avverrà presto, l'ultimo sistema dei conti nazionali a livello mondiale del 2008, poi recepito nel sistema europeo nel 2010, e per la bilancia dei pagamenti è il manuale 6. Nel 2025 passeremo al nuovo sistema nazionale dei conti e alla nuova bilancia dei pagamenti. Non so se saranno... No, nel 2025 saranno approvati, poi passeremo col tempo dopo. 29. 29. 29. Ero rimasto indietro ai tempi del CMFB, si parlava di 25. Le revisioni hanno un problema che di nuovo alla maggioranza, alla stragrande maggioranza dei presenti è noto, ma che sfugge spesso al grande pubblico, ed è quello della armonizzazione delle revisioni. Le revisioni possono avere tempi diversi nei vari domini statistici e tra paesi, creando non pochi problemi agli utilizzatori dei dati, che si ritrovano ad avere, che non so, i conti nazionali annuali aggiornati e non quelli trimestrali, questo avveniva nel passato. Oggi avviene molto di meno, ma lo sforzo di armonizzare a livello europeo la revisione delle statistiche ha portato il CMFB, il Comitato Europeo che riunisce istituti di statistica e banche centrali, adottare un documento che fissa criteri per una armonizzazione delle statistiche. Bene, questo è per darvi un po' il quadro dei temi che toccheremo oggi. In questa sessione avremo tre interventi che toccheranno questi temi in profondità. Dal lato della produzione, Giovanni Savio, che è il direttore centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, ci parlerà dei conti economici nazionali, tra la revisione generale di benchmark del 2024 e il nuovo sistema europeo dei conti. Simonetta Zappa, capo della divisione statistica sull'estero della Banca d'Italia, ci parlerà invece dell'aggiornamento degli standard internazionali per le statistiche sull'estero. E infine invece Flavio Padrini, direttore del Servizio di Finanza Pubblica e Ufficio Parlamentare di Bilancio, ci parlerà delle esigenze informative per il controllo e il monitoraggio del nuovo patto di stabilità e crescita, perché questi obblighi nazionali e internazionali, in particolare quelli legati al patto di stabilità e crescita, si intersecano con le scadenze puramente statistiche nelle revisioni e aggiornamenti dei dati. Quindi qui avremo un quadro di ciò che avverrà e sarà chiesto ai conti nazionali. Ed è anche un buon esempio della collaborazione tra istituzioni, in particolare nel lato della produzione, tra Banca d'Italia e Istat, che ha permesso di migliorare nettamente la qualità delle statistiche negli ultimi anni. Ma non parleremo solo di questo. Nel tempo i conti aggregati sono diventati sempre più disaggregati, per settori, branche produttive, o per le voci dei vari conti che vengono considerati. Nonostante questa grande disaggregazione, abbiamo sempre nuovi bisogni conoscitivi. E ci sono due progetti su cui l'Istat sta lavorando, che sono i famosi due esempi di conti satellite, che vengono prodotti a margine dei conti nazionali, ma integrati e coerenti con i conti nazionali. Di questi due progetti, uno riguarda il conto satellite per lo sport, di cui sentiremo più diffusamente nella plenaria più tardi nel pomeriggio. L'altro, un tema non meno affascinante, che è quello del conto satellite, per misurare la spesa economica nazionale, di cui ci parlerà Augusto Cramarossa, che è responsabile dell'unità di coordinamento dell'area strategica e New Space Economy dell'Agenzia Spaziale Italiana. Infine, ma come si dice bene in inglese, last but not least, sullo sfondo di tutte le cose che ci stiamo dicendo, che in qualche maniera sono tradizionali, cioè stiamo parlando di un mondo ancora tradizionale della statistica, c'è quello che sta avvenendo con la digitalizzazione dell'economia. e della società, non solo dell'economia. Ci sono tante questioni che meriterebbero una sessione intera, anzi più sessioni. Lasciatemi, spero, citare solo tre cose molto brevemente. Tre problemi che si pongono per la statistica ufficiale. La prima è la questione di come sfruttare queste enorme messe di dati che noi abbiamo adesso online o negli archivi amministrativi che si associano con la digitalizzazione dell'economia. Quindi nuove messe di dati e nuove metodologie che possiamo applicare a questi dati. La seconda questione che mi sta molto a cuore è una sfida specifica per la statistica ufficiale. Nuovi dati così abbondanti, nuove metodologie che permettono di utilizzarlo, fa sì che molti operatori pubblici e privati possano costruirsi le loro statistiche, però è solo la statistica ufficiale che certifica la qualità di questi dati. E questo è un punto importante. Non dobbiamo dimenticare un compito che la statistica ufficiale deve portare a casa e di cui deve essere assolutamente consapevole e responsabile. C'è una terza questione e la terza questione è in un'economia digitalizzata ciò che prima erano beni tangibili che avevano valore diventano sempre più ben intangibili. I dati. Qual è il valore dei dati? E su questo avremo l'intervento di Francesco Venturini che ci illuminerà appunto sul valore dei dati nel tempo dell'intelligenza artificiale. Insomma, molti spunti e argomenti. Ho parlato fin troppo, quindi è il tempo di dare la parola ai nostri autorevoli relatori iniziando come nel programma con Giovanni Savio. Grazie. Andrea, grazie per queste parole e per aver richiamato quelli che sono gli argomenti fondamentali di questa breve, brevissima presentazione per motivi di tempo disponibili. in particolare è vero che queste continue revisioni dei conti economici nazionali e delle statistiche ufficiali sono un po' un nightmare, un incubo per gli utilizzatori, ma è anche vero che sono un incubo per gli stessi produttori di dati perché chiaramente tutti preferirebbero lavorare con più calma, con più tempi e con più risorse a disposizione e chiaramente questa continua rincorsa di una perfezione che non si è mai vista insomma anche nel campo della statistica ufficiale pone problemi abbastanza forti. Del resto questa armonizzazione si parla molto spesso nel CMFB e nel Dimes che è il gathering dei direttori di statistiche macro di Eurostat, essenzialmente di tutti i paesi membri di Eurostat, si parla molto spesso di questa ERP che non è ERPES ma è l'Harmonized European Revision Policy e poi si vede all'ultimo CMFB che non c'è assoluto coordinamento nelle tempistiche di queste revisioni, nel senso che noi saremo uno degli ultimi paesi a produrre queste stime di benchmark. Ci sono altri paesi grandi che le hanno già prodotte nel corso dell'anno, noi siamo in tempo, di fatto perché tutti i paesi dovrebbero produrre questa nuova ondata di benchmark per fine settembre 2023 e noi tradizionalmente ci siamo presi tutto il tempo possibile immaginare, 24 scusate, però altri paesi sono già usciti, quindi Eurostat tutti i giorni manda, avete qualche informazione qualitativa, quanto cambia il PIL, cambia in su, cambia in giù, insomma l'armonizzazione c'è e c'è di fatto, c'è questa convergenza verso un'armonizzazione completa, però non è nei numeri, oddio che ho fatto. Parlerò appunto di questa ultima, di questo ultimo incubo che si concluderà il 23 settembre con la pubblicazione dei nuovi conti nazionali a partire dal 1995. Quindi rivedremo abbastanza diciamo l'anno di benchmark 2021 e questo è il pilone, il pilastro su cui il livello nuovo, su cui si agganceranno le stime degli altri anni e chiaramente prevediamo che le differenze saranno a scendere diciamo man mano che ci allontaniamo e arriviamo al 1995 e non prevediamo scossoni grossi, soprattutto l'ultima parte della serie, il 23 e il 24, che sono gli anni che uno ha più in mente, più freschi. Revisione ordinaria sul 2021 c'era già stata, cioè a settembre scorso avevamo rivisto abbastanza pesantemente il dato di livello del 2021, l'ordine del 2%, le dinamiche erano un po' cambiate di conseguenza, però i dati del 22 e del 23 avevano portato dietro su un livello più alto chiaramente il dato del 2021 rivisto. Ora, rivediamo, rivediamo nuovamente il 2021 ed è chiaro che in un'ottica di medio termine probabilmente saranno in pensione, noi per fortuna, nel 2025 ci sarà l'approvazione da parte della Statistical Commission a marzo dell'SNA nuovo, 2025, in genere il SEC tarda due anni e quindi probabilmente si prevede la pubblicazione nel 2027 e nel 2028-29 ci aspettiamo appunto una ulteriore revisione, questa sì, di più benchmark sull'anno stesso. Dato che dobbiamo concludere, ecco, dato che dobbiamo concludere i lavori a settembre, il 23 settembre del 2023 e in quell'occasione faremo un comunicato stampa, poi parlerò meglio di comunicazione perché questo è un punto su cui Eurostat insiste molto, questo della trasparenza, dell'anticipazione di queste pillole, insomma, di queste medicine di revisione e quello ci sarà anche un po' da concordare con la banca perché pure voi siete in tema di revisione di bilancia dei pagamenti sono già dati che abbiamo incorporato qualche giorno fa e fortunatamente non sono cambiamenti di entità consistente però ecco c'è una armonizzazione e un coordinamento interno anche sulle statistiche che dobbiamo produrre noi perché fanno in parte riferimento a dati e informazioni che la banca produce quindi dovremo in qualche modo coordinarci e questo sarà probabilmente uno degli argomenti del comitato di coordinamento con la banca questo della c'è stata una breve nota diffusa qualche mese fa quando abbiamo di fatto iniziato dopo il primo marzo i lavori per il benchmark e questa è un'occasione anche questa della conferenza per parlare un pochettino di queste cose e anticiparvi qualche effetto qualitativo cose nuove che abbiamo introdotto censimenti e registri in particolare il censimento della popolazione e delle abitazioni che è probabilmente una delle componenti più forti della revisione che ci attendiamo c'è il censimento sulle istituzioni no profit tutti sono del 21 intorno del 21 il censimento dell'agricoltura le indagini della banca sulle vite utili e i risultati della task force sulla stima del capitale fisso fix cap con riduzione in generale degli ammortamenti specialmente per la parte PA e quindi lì ci sarà un po' di sommovimento del PIL perché questo innalza chiaramente la spesa per ammortamenti e porta su il valore aggiunto del non market l'adozione della nuova COICOP 2018 per la parte dei consumi e una sistematicizzazione delle fonti energetiche che hanno pure un impatto anche queste dal lato PA essenzialmente qui è uno schema non è che possiamo darvi numeri oggi non me li strapperete almeno se mi mettete per terra col calcagno però insomma è per dare qualche indicazione dalla quale capirete che il PIL crescerà essenzialmente sarà un po' più alto in termini di livello di quello che abbiamo già rivisto nel 21 l'effetto della popolazione dell'occupazione è minore ci sono degli effetti di composizione di branca qui scontiamo anche una revisione interna delle FDL delle forze di lavoro minore sullo stock di capitale e produttività sul censimento delle abitazioni che è diventato un censimento permanente ai noi perché prima eravamo abituati a un censimento normale ora si chiama permanente ed è una fonte amministrativa qui si parla tanto di fonti amministrative dei vantaggi in termini di user eccetera eccetera di burden di meno burden su di utilizzatori purtroppo questi sono dati catastali sono dati differenti che prendiamo ogni anno ogni due anni però ci troviamo con un ammontare di abitazioni che per il 2021 è molto più alto di quello del 2011 censimento vero portato avanti al solito modo crescita della popolazione e cose di questo genere c'è uno scalino di qualche milione di abitazioni che come sapete bene per una di quelle cose stranissime della contabilità vanno a finire a consumi con fitti imputati e a pil poi essenzialmente e due o tre milioni di abitazioni sono cose abbastanza forti e con un pretrattamento della fonte del dato amministrativo che è consistente perché lì c'è tutti gli airbnb booking le case vuote ma utilizzate dal proprietario per cose proprie per attività professionale quindi c'è una nettizzazione che deve essere fatta e quindi c'è una cosa importante l'altro punto importante è quello dell'APA come accennavo precedentemente vite utili ammortamenti ho quasi finito e poi la parte del ricepimento della Crual i rinnovi contrattuali stiamo spalmandoli su più anni e chiaramente siccome siamo fortunatissimi una buona parte casca nel 2021 con un ulteriore innalzamento ci sono ancora altre innovazioni nel campo delle stime trimestrali ma queste risentiranno più che altro appunto anche del fatto che i nuovi dati annuali saranno appunto di livello più alto anche se sui tassi di variazione siamo abbastanza tranquilli che quelli non verranno toccati consistentemente e poi ci sono l'utilizzo qui di nuovi indicatori fatturazione elettronica indice del fatturato e una maggiore copertura del terziario su un 70% di pilla e chiaramente ci rende un po' più felici e tranquilli grazie ho finito sforato un po' grazie Giovanni se volevi creare come dire attesa appetito per settembre ci sei riuscito tutti il 23 settembre saremo sul sito va bene Simonetta tu ci dai invece il lato Simonetta Zappa Banca d'Italia il lato bilancio dei pagamenti perfetto allora buon pomeriggio a tutti grazie Andrea sì vediamo un po' rapidamente quali sono diciamo gli elementi gli aspetti fondamentali di questa revisione dei manuali del manuale in realtà di bilancio dei pagamenti e posizione sull'estero insomma le statistiche sull'estero diciamo sono degli standard come dicevi molto precisi definiti a livello internazionale i quali noi ci dobbiamo attenere nella nostra nella compilazione scusa ecco vediamo un attimo ecco dunque questo è brevemente quello che vorrei dirvi cioè come si è articolato diciamo il processo di revisione di questi standard quali sono le novità principali che poi non sono tantissime in realtà come vedremo che tipo di approccio è stato scelto ma soprattutto quali sono poi le difficoltà per noi che siamo diciamo i compilatori delle statistiche sull'estero anche rispetto alle sfide che ci pongono diciamo le nuove fonti informative che in alcuni casi siamo in qualche modo diciamo costretti in qualche modo anche a ricercare e poi ci soffermeremo rapidamente su quali sono gli elementi fondamentali di coordinamento sia a livello internazionale nella compilazione delle statistiche sull'estero sia a livello nazionale soprattutto nel coordinamento tra domini statistici correlati come diceva Andrea inizialmente il processo diciamo di revisione del manuale di bilancia dei pagamenti avviene all'incirca ogni 15 anni la novità è che in questo caso per la prima volta il processo che come vedete è piuttosto complesso e articolato è partito nel 2020 e si concluderà come si diceva nel 2025 per la prima volta è stato pensato concepito in modo congiunto tra il system of national account e balance of payments manual come vedete è diciamo c'è un previsto a specchio diciamo sopra vedete le fasi dello SDA sotto quelle del BPM è stato diciamo articolato in maniera molto complessa con otto task team dedicati ai vari temi principali di cui tre soltanto per la bilancia dei pagamenti con il coinvolgimento di tutti gli organismi internazionali e di tutte le banche centrali nazionali e gli istituti di statistica all'interno dei task team c'è stata la gran parte delle discussioni sui temi diciamo che sono stati ritenuti più rilevanti sui quali soffermare diciamo l'attenzione sono state prodotte una grande messe di guidance note che poi sono state sottoposte alla consultazione pubblica e diciamo il processo piuttosto complesso è andato avanti in questa maniera noi ci troviamo nella fase diciamo in bianco in cui ormai siamo alla stesura dei draft finalmente e quindi arriveremo diciamo nel 2025 alla fase finale dopo che ci saranno stati anche tutta una serie di outreach seminar per sensibilizzare diciamo ai temi principali la fase successiva come si diceva sarà quella anche importante di priorizzazione dei temi perché come vedremo l'approccio che è stato scelto è un approccio particolare posto che le novità non ci sono novità fondamentali nella struttura non viene stravolta diciamo la struttura delle statistiche sull'estero uno dei dati più rilevanti è che si pone una particolare enfasi alla riconciliazione tra i dati di flusso di bilancia dei pagamenti e i dati di stock cioè di posizione patrimoniale ma questa è una cosa che tutto sommato in Europa noi facevamo già da anni la cosa principale è quella che diciamo in qualche modo si cerca di rappresentare alcuni fenomeni che diciamo sono entrati sempre più come dico con effetti dirompenti diciamo nel mondo delle statistiche sull'estero cioè sostanzialmente la globalizzazione e la digitalizzazione ovviamente temi che erano già presenti diciamo nel precedente manuale ma che hanno stanno avendo effetti dirompenti nelle statistiche effetti potenzialmente anche distorsivi in alcuni casi nelle statistiche un caso che cito lì è quello delle esportazioni dell'Italia verso la Cina che nelle statistiche di commercio estero che vedono il passaggio fisico della merce l'anno scorso erano improvvisamente raddoppiate per un farmaco anti-covid che sembrava essere esportato in larga parte diciamo dall'Italia alla Cina in realtà poi si è scoperto che questo dato non è entrato nelle esportazioni della bilancia dei pagamenti e quindi nel PIL perché si trattava di particolari diciamo global production arrangements per cui si trattava in realtà di processare una merce che in realtà non era mai stata di proprietà italiana e quindi non era un'esportazione per le regole diciamo della bilancia dei pagamenti e quindi naturalmente diciamo effetti dirompenti ce ne sono infiniti possibili immaginabili legati ai temi della globalizzazione e l'approccio che è stato scelto in questo nuovo in questo nuovo manuale che sta per uscire è proprio quello allora di incrementare il più possibile il livello diciamo di dettaglio e la granularità nei dati che si devono produrre e quindi la richiesta sostanzialmente è quella di produrre delle supplementary presentation dei dati in alcuni casi obbligatorie in altri casi diciamo invece lasciate volontarie lasciate diciamo ai contesti economici differenti dei vari paesi io qui ne cito alcune che ritengo particolarmente importanti cioè per esempio il maggiore dettaglio per alcune tipologie di servizi sentivamo anche stamattina quanto sia importante stia diciamo aumentando l'importanza del mondo dei servizi ma soprattutto per esempio l'introduzione delle cosiddette extended measures per gli investimenti diretti cioè la possibilità di ricostruire tutta la catena partecipativa degli investimenti diretti dall'ultimate investing economy fino in fondo all'ultimate host economy non soltanto quindi fermandosi alla controparte immediata questo dovrebbe aiutare di molto a comprendere diciamo invece il quadro economico che sta dietro agli investimenti diretti così come la futura disaggregazione delle imprese residenti tra quelle foreign controlled e quelle domestic controlled perché anche quello è diciamo un elemento fondamentale per capire come si muovono e come si muove l'economia ora naturalmente questi sono esempi di elementi che noi riteniamo assolutamente importanti e per i quali diciamo il costo opportunità di aggiungere dettagli perché ovviamente come tutti ben sappiamo c'è un costo anche molto elevato nell'aggiungere dettagli ha un significato molto importante e quindi ha senso diciamo prodursi per ottenerlo non sempre questo avviene quindi diciamo è necessario comunque procedere per priorità e questa è una cosa di cui diciamo anche gli organismi internazionali sono ben consapevoli e quindi lasciano ai paesi e all'Europa perché l'Europa diciamo in questo ragionerà diciamo in maniera unitaria quali di queste presentazioni supplementari sia bene produrre diciamo sia utile produrre naturalmente diciamo tenendo sempre presente come come dicevo che ci sono diciamo c'è un rapporto costo-efficace che va sempre salvaguardato da un lato e che c'è questa difficoltà molto elevata di in un mondo in cui i confini definitori e classificatori sono sempre meno chiari e netti di riuscire a rappresentare all'interno delle tassonomie statistiche in particolare di quelle delle statistiche sull'estero fenomeni legati alla globalizzazione un mondo in cui il mondo delle statistiche sull'estero che si basa sul concetto di residenza economica per cui guarda i rapporti tra residenti e non residenti ovviamente tutto quello che avviene in maniera sempre più complessa e articolata all'interno del mondo delle multinazionali per esempio pone problemi veramente complessi diciamo al compilatore per non parlare delle ristrutturazioni aziendali delle ridomiciliazioni e di tutto quello che attiene diciamo al mondo per esempio delle criptoattività dunque un altro elemento fondamentale che ovviamente gli statistici sull'estero hanno davanti è quello di cercarsi delle nuove fonti perché quando si chiede più granularità più dettagli spesso le fonti esistenti non sono in grado di darle o comunque l'onere diciamo statistico aumenterebbe a dismisura allora diciamo spesso si cerca di riutilizzare fonti già esistenti che però sono state concepite per altri scopi e quindi diciamo hanno indubbi vantaggi dal punto di vista dell'economicità della granularità del dettaglio ma spesso sono pensate con definizioni classificazioni che non sono affatto in linea con gli standard delle statistiche sull'estero e quindi questo significa per noi dover investire in maniera molto seria sulle affinamenti su stime e metodologie nuove per renderli diciamo masticabili dal nostro punto di vista ne sappiamo qualcosa noi in Banca d'Italia che ultimamente abbiamo utilizzato con grande fatica diciamo ma siamo riusciti ad utilizzare i dati di telefonia mobile per produrre le statistiche per la voce viaggi della bilancia dei pagamenti veniamo agli ultimi due diciamo elementi su cui volevo fissare la nostra attenzione l'importanza diciamo del coordinamento internazionale a livello di produzione di statistiche sull'estero qui gli organismi internazionali giocano e devono giocare un ruolo molto importante nel dirimere sicuramente le questioni metodologiche perché scrivere diciamo per quanto il processo sia stato complesso e diciamo condiviso a tutti i livelli scrivere il manuale non è sufficiente ci sarà tutto il momento la fase di implementazione che sarà molto dura e complessa e questo richiederà spesso il ritorno diciamo anche agli organismi internazionali per dirimere questioni metodologiche c'è tutta la questione che riguarda la gestione delle asimmetrie nei dati tra paesi che pure va diciamo affrontata a livello centrale diciamo così come c'è la possibilità ed è un ruolo che finora gli organismi internazionali hanno giocato troppo poco di centralizzare una serie di fonti informative che possono essere utili ai vari paesi e che non possono diciamo pensiamo alle piattaforme di intermediazione digitale per esempio non è possibile né pensabile che il singolo paese sia l'interlocutore in questi casi ma ha senso invece se questo avviene a livello di organismi internazionali ultimo ma non ultimo è il coordinamento invece a cui noi teniamo tantissimo tra domini statistici correlati naturalmente come abbiamo visto fin dall'inizio diciamo c'è le revisioni congiunte dei manuali in contenuti definizioni classificazioni ma c'è l'ERP di cui ha parlato Giovanni c'è soprattutto la pratica quotidiana della compilazione in questo soprattutto in casi come il nostro in cui le responsabilità sono condivise tra Istat e Banca d'Italia è fondamentale la collaborazione che noi stiamo avendo ormai da molti anni in modo molto fruttuoso l'Italia in questo diciamo l'Italia è riconosciuto a livello internazionale una grandissima capacità di mantenere la coerenza nel tempo tra le nostre statistiche e abbiamo anche fatto degli esercizi molto importanti di analisi delle attività delle multinazionali insieme e questo ci è stato molto riconosciuto a livello internazionale cosa che però è fondamentale sottostante lo sappiamo tutti molto bene e la capacità di scambiarci dati tra istituzioni anche a livello micro questa è una cosa su cui noi diciamo abbiamo trovato degli ottimi accordi però insomma è una questione non irrilevante c'è ancora tanto da fare e qui concludo dicendo sostanzialmente ripetendo un po' i punti principali diciamo che vi ho enunciato cioè la nostra difficoltà di statistici di star dietro a questa realtà così complessa e che muta così velocemente la nostra ricerca continua di nuove fonti e diciamo la necessità però di adattarle ai manuali l'ultima cosa che voglio dire diciamo è che però è molto importante che noi riusciamo diciamo a verificare a comprendere in tutti i modi diciamo le interazioni tra i vari domini statistici e a condividere di nuovo come dicevo le informazioni tra noi perché altrimenti non riusciamo a dare un quadro coerente chiaro e leggibile di quello che succede intorno a noi grazie grazie Simonetta un ottimo esempio delle difficoltà che peraltro Simonetta ha ripreso alla fine degli standard statistici che insegnano la realtà qui sistemiamo la globalizzazione mentre tutto il mondo parla di deglobalizzazione in questa fase però ci servirà comunque quindi grazie Simonetta ora passiamo a Francesco Venturini dell'università di Urbino che ci racconterà ma quanto valgono i dati? buonasera volevo ringraziare per l'invito io sono docente all'università di Urbino ma sono anche un research fellow presso due istituzioni di ricerca inglesi sottolineo questa mia affidazione internazionale perché poi la seconda parte del mio intervento sarà diciamo sarà dedicato alla presentazione di uno studio pilota che abbiamo condotto per il governo del Regno Unito l'anno scorso riguardo la misurazione dei dati come investimento diciamo un po' ancora più vicino ok scusate ok grazie ok diciamo nel dibattito accademico economico c'è una grande consapevolezza oramai che i dati risultano essere diciamo un fattore propulsivo della nuova economia digitale ho riportato qua due titoli abbastanza ad effetto presi dall'Economist e da Forbes anche un pochino datati che sottolineano l'importanza un po' del dato come il nuovo carburante della nuova economia digitale quindi questi sono titoli ad effetto che tuttavia danno una visione parziale dell'importanza del dato perché perché oramai il dato viene visto come non come un ben intermedio diciamo così se la vogliamo semplificare la nostra discussione ma viene visto come un asset un bene di investimento intangibile strategico e prioritario su cui le imprese fondano in modo permanente il proprio vantaggio competitivo l'acquisizione del dato l'organizzazione e la valorizzazione economica di fatto sono fonte di vantaggio competitivo per l'impresa duraturo nel tempo e diciamo un po' come è successo con i processi di contabilizzazione del software e della ricerca e sviluppo nell'ambito della contabilità nazionale la ricerca diciamo accademica la ricerca economica io non sono una statistica economica però alcuni economisti si sono impegnati si sono concentrati nel tentativo di quantificare il valore del dato come investimento qual è lo stato dell'arte della contabilità nazionale riguardo al valore del dato correggetemi se dico diciamo secondo il sistema di contabilità nazionale attuale il dato è una parte il valore del dato almeno in parte è contemplato nella voce asset intangibili computer software database nella misura in cui la produzione del dato viene il dato viene scambiato sul mercato attraverso processi di acquisto e vendita o attraverso delle licenze ad uso tuttavia c'è una contabilità nazionale quindi è totalmente scoperta per quanto riguarda la produzione del dato l'autoproduzione del dato cioè quel dato che le imprese attraverso le competenze interne acquisiscono rielaborano e valorizzano con la data intelligence per finalità di tipo produttivo quant'è importante questo aspetto quanto è il valore economico del dato inteso come bene di investimento allora c'è uno studio da parte di Pete Goodrich e Jonathan Askell pubblicato su Income Wealth in cui per 16 paesi europei con una metodologia che poi andremo a descrivere brevemente provano a quantificare il valore del dato come investimento a prezzi correnti in euro per 16 paesi europei e confrontano nel diciamo che corrisponde alla linea in blu nel grafico alla vostra sinistra e diciamo secondo il loro studio nell'Unione Europea 16 più o meno l'investimento in dati corrisponde alla fine del periodo considerato che va dal 2011 al 2017 corrisponde a 94 miliardi di euro correnti e circa il doppio rispetto al valore degli asset intangibili corrispondenti contabilizzati dal sistema del National Accords Gran parte diciamo quasi un terzo dell'investimento in dati quantificato da questi studiosi diciamo viene localizzato e realizzato dall'impresa tedesca l'Italia non è coperta da questo studio però un altro paese in cui il data investment assolve un ruolo molto significativo e quantitamente importante è il Regno Unito una task force creata all'interno del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite per la revisione della contabilità nazionale ha raccolto un po' diciamo i studi pilota fatti a livello di singoli paesi sul quale possa essere il valore economico del dato inteso come investimento e diciamo studi con metodologie più o meno diverse ma il valore del dato inteso come bene di investimento come forma di investimento inizia ad essere abbastanza significativo basti considerare ai Stati Uniti dove circa l'1% del pil può essere diciamo corrisponde diciamo l'investimento in dato corrisponde all'1% del pil a prezzi correnti in termini di contributo all'espansione del pil ancora il valore il dato inteso come bene di investimento è ancora contenuto per gli Stati Uniti diciamo lo studio preso in considerazione quantifica che mezzo punto percentuale in più scusate in un 0,05% in punti percentuali in più all'anno di espansione del pil se si capitalizza se si capitalizzano i dati come bene di investimento qual è il problema alla base di il processo di misurazione del dato come investimento come dicevamo diciamo in base alla definizione adottata da questa task force delle Nazioni Unite il dato come investimento consiste in un processo a volte viene chiamato data value che è il risultato di una data value chain che consta di alcune fasi di alcune componenti che corrisponde alla parte dell'acquisizione del dato immagazzinamento e gestione e analisi per finalità produttive il problema di fondo nella misurazione di questa forma di investimento è che questa forma di investimento è autoprodotto all'interno dell'impresa e quindi diciamo la metodologia più diffusa che è la base un po' degli studi che abbiamo visto che abbiamo passato in rassegna si basa sul sum of the cost cioè in pratica il valore dell'investimento viene calcolato quantificando il tempo e il costo diciamo il costo associato al tempo produttivo che il personale con finalità diciamo con competenze di data management diciamo così i famosi data expert hanno allocato nella loro attività produttiva ad alcuni data task ok quindi questi studi hanno in comune l'idea di fare una di identificare quali sono le figure professionali così di data expert e poi quantificare il tempo di lavoro che ciascuno di queste figure alloca a alcune dei data task che abbiamo detto sono diciamo varie tipologie quindi acquisizione gestione e analisi se vogliamo semplificare e sulla base di questa quindi una volta quantificata la percentuale o il numero di occupati per categorie professionali in ciascuna di queste task il costo l'investimento corrisponde al costo del lavoro di ciascuna di queste figure professionali moltiplicato per una percentuale di tempo che attraverso anche delle survey si supponga venga destinato a ciascuna delle task nel processo di creazione dei dati questo diciamo è un po' la metodologia che accomuna i lavori economici che troviamo in letteratura uno dei lavori più diciamo forieri in questo in questo fenomeno di studi è il lavoro che abbiamo convenzionato prima quello di Gudrich che quantifica circa in 1,5% il numero di occupati che in Europa in Europa 28 sono impegnati nelle attività di creazione di creazione dati poi quantificando il loro tempo produttivo nelle varie attività data task diciamo così questi studiosi quantificano diciamo gli investimenti in dati per un valore diciamo che circa 60% superiore a quello che risulta dalla contabilità nazionale diciamo così si basa solo su si basa considera solo computer diciamo computer software e database nelle modalità che abbiamo che abbiamo descritto c'è un altro studio che diciamo adotta la stessa metodologia però con dati settoriali condotto da Carlo Corrado Ceciliano Lasinio Massimiliano Iommi Jonathan Haskell in cui diciamo fanno vedere quantificano l'importanza dei dati investment a livello di settore quindi questo è sicuramente un elemento di novità tuttavia questo studio mette in evidenza anche un altro aspetto diciamo così non banale di rilievo per noi economisti perché diciamo così la crescente investimento in dati sembra aumentare la porzione di investimenti intangibili utilizzati in via prioritaria quindi in cui sono in cui le imprese che cercano di tutelare col segreto con altre forme di IPR e in questo modo il peso crescente dei dati investment su totali intangibili finisce per ridurre i processi di diffusione di knowledge spillover che dovrebbero trenare anche in qualche modo la crescita della produttività totale dei fattori quindi questo è diciamo così un aspetto negativo fino ad ora trascurato negli altri studi che troviamo in questo tipo di letteratura ma il crescente peso dei dati è fortemente penalizzante nei processi di diffusione della conoscenza perché i dati sono le imprese investono queste grandi imprese investono in dati nell'acquisizione di dati e su questi cercano di costituire il proprio vantaggio competitivo la loro principale fonte di mercato soprattutto se pensiamo alle big tech diciamo ai grandi attori dei mercati dei servizi digitali ci sono studi micro uno dei quali mi ha visto insomma partecipare che è uno studio pilota che abbiamo fatto per il governo del Regno Unito in collaborazione sempre con la lui sape son mori il punto la difficoltà di questo processo di quantificazione del data investment consiste non solo nel trovare le figure professionali acquisiti data expert che possono essere ICT specialist data architect quindi e su questo la classificazione ISCO ci viene in aiuto il punto principale è capire qual è la proporzione del tempo che ciascuno di questi esperti dedica nell'attività lavorativa all'acquisizione gestione e analisi dei dati quindi per conto del Regno Unito abbiamo fatto un'indagine su un campione rappresentativo di 2000 imprese britanniche a cui abbiamo dispensato un questionario molto dettagliato non solo su le forme tradizionali di investimento di processi di innovazione brevettazione internazionalizzazione ma un focus specifico sull'uso la produzione non solo l'acquisizione dall'esterno ma anche la produzione interna di dati chiedendo per ciascuna delle figure professionali impiegati in azienda la proporzione del tempo destinato alla produzione di dati distinto per i vari data task che vanno acquisizione gestione ed analisi quindi in modo tale siamo riusciti a avere una mappatura abbastanza completa di tutte le figure professionali una bella matrice in cui per ogni figura professionale il tempo impiegato nella gestione dati di base quella che richiede un livello di competenze intermedie e poi l'analisi quella che si basa su sistema di intelligenza artificiale che richiede quindi un livello di competenze maggiore risultato allora abbiamo fatto uno studio una parte micro di cui sono stato responsabile io e una parte macro di cui si è occupata la LUIS nella parte micro noi abbiamo evidenziato abbiamo fatto uno studio econometrico e le imprese che hanno diciamo adottato data come investimenti hanno una produttività leggermente più alta rispetto al gruppo di controllo cioè quelle imprese inglesi che non hanno investito in dati nella forma diciamo così che ci siamo appena abbiamo appena descritto tuttavia diciamo abbiamo trovato come diciamo se facciamo riferimento alla misura tradizionale di investimento in tangibili in computer software in database beh le imprese inglesi che investono in queste tipologie di asset intangibili hanno una produttività del lavoro più alta del 12% nella parte macro nella parte macro è stato quantificato con un esercizio di contabilità della crescita è stato quantificato il ruolo degli investimenti in dati sull'andamento della produttività del lavoro e poi quanto ha contribuito è stato scorporato dall'ATFP per gli avvi motivi che generano nella misurazione degli input rispetto ai studi precedenti lo studio l'analisi fatta da lui si evidenzia come l'investimento in dati può arrivare a contribuire all'un per cento diciamo può arrivare a contribuire ad un punto percentuale in più della produttività del lavoro settoriale questo tipo chiudo questo tipo di studio sulla falsa riga verrà replicato in Italia attraverso una collaborazione tra l'Università di Urbino l'Università Politecnica delle Marche e la lui stessa quindi questo è un po' il quadro dello stato dell'arte sulla data investment grazie Francesco se ho capito bene tu hai aggiunto un bell'incubo per i produttori di conti nazionali per il futuro cogliendo un punto che non è eh beh insomma prenditi le tue responsabilità grazie Francesco adesso passiamo la parola ad Augusto Cramarossa dell'Asi che ci racconterà il conto satellite dei satelliti affini grazie e buon pomeriggio a tutti quanti grazie per l'invito sono veramente contento di essere qui perché abbiamo attivato una collaborazione vera e propria con l'Istat a ottobre abbiamo firmato un accordo quadro di collaborazione quindi e stiamo proprio in questi giorni cercando di mettere a punto in che modo l'Agenzia Spaziale Italiana possa contribuire alla alla creazione di questo conto satellite che a me ha creato molta confusione perché pensavo si parlasse di satelliti invece è tutta altra cosa quindi ci ho messo un po' a capire cercherò di essere breve immagino che siate tutti specialisti esperti di statistica quindi probabilmente avrò spero di riuscire a essere chiaro perché noi usiamo normalmente molte acronimi sigle che poi insomma ci parliamo un po' addosso tra di noi quindi è una buona occasione per mettermi alla prova allora faccio prima un'introduzione un po' generale sullo spazio in Italia abbiamo competenze in tutte le aree del settore spazio quindi dal satelli di telecomunicazione di navigazione di osservazione della terra che diciamo sono la principale fonte di dati scienza robotica esplorazione umana abbiamo sette astronauti che sono andati nello spazio a una stazione spaziale insomma non li leggo tutti quelli più recenti di rilievo sono space transportation sono i razzi abbiamo una capacità anche di mettere in orbita i satelliti che non è cosa da poco i orbit servicing sono servizi in orbita a satelliti o alla stazione spaziale quindi diciamo che grazie agli investimenti dello Stato nei decenni precedenti siamo uno dei pochi paesi a avere una competenza a 360 gradi i satelliti forniscono dei vantaggi perché consentono di essere un punto di osservazione unico rispetto magari a sensori messi sulla terra perché abbiamo la possibilità di passare in vari momenti della giornata su certi punti del pianeta e quindi abbiamo un accesso continuo anche a aree remote magari quelle che non sono raggiunte da internet per esempio e sono anche indipendenti quindi non hanno limitazioni particolari e quindi diciamo che sono un valore aggiunto mi sposto perché non riesco a leggere perché non ho gli occhiati e beh quindi diciamo che danno un grande valore aggiunto nella corrente economia si è parlato di digitalizzazione globalizzazione diciamo che i satelliti contribuiscono in maniera consistente si parla di spese economy da qualche tempo quindi perché parlare di spese economy diciamo che un termine abusato che a me neanche piace troppo però si parla di new space economy soprattutto ma diciamo che effettivamente lo spazio sta cominciando a contribuire poi vi do qualche numero forse la sede è sbagliata per dare i numeri perché sicuramente non sono certificati come i vostri però ci provo e diciamo che ultimamente c'è un grande interesse soprattutto investimenti da parte di operatori privati avrete sentito parlare di Elon Musk con tutta la sua filiera di Razzi SpaceX e così via quindi diciamo lui è veramente il privato che più di tutti gli altri sta mettendo grosse somme a favore delle attività spaziali in particolare Razzi è un sistema una costellazione enorme più di 6.000 satelliti per le telecomunicazioni che anche per i cellulari e quindi vediamo un po' cos'è diciamo lo spazio si è cambiato molto dagli anni 60 c'era la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Russia e Unione Sovietica c'è stata una crescita del budget pubblico come dicevo c'è stato un forte incremento delle risorse private quindi abbiamo dei drivers che sono cambiati un po' rispetto al passato abbiamo dei trend tecnologici che hanno consentito un progresso da molti punti di vista si parla parliamo sempre di big data miniaturizzazione intelligenza artificiale capacità di calcolo anche in orbita nei satelliti stessi quindi come dicevo prima anche imprenditori privati che stanno finanziando sempre di più tutto ciò controllo il tempo perché per evitare di essere lungo quindi diciamo i principali drivers i principali elementi sono la riduzione dei costi e incluso anche la adesso stiamo facendo anche noi i nasi sviluppando satelliti molto piccoli che sono 10x10x10 si chiamano cubesat quelli più piccoli quindi sono dimensioni tipo cubo di rubik tanto per fare un esempio quindi nuovi investitori nuove applicazioni ho citato prima i servizi in orbita perché adesso si sta cominciando a pensare di progettare i satelliti e mettere in orbita in maniera tale che si possa come in una macchina di tutti un'automobile sostituire magari dei pezzi direttamente in orbita senza buttare il satellite anche perché poi c'è il problema dei detriti in orbita che sta diventando sempre più consistente sempre più drammatico e poi ci sono tutti i fattori geopolitici non ultime le guerre che diciamo hanno cambiato completamente l'OECD quindi l'OX ha dato un po' delle linee guida su come calcolare la spesa economy e quindi diciamo ci sono questi tre ellissi concentri ci sta la parte centrale che è l'upstream quindi i satelliti e i razzi l'hardware il ferro che sta in orbita e che consente andare in orbita il downstream sono tutta quanta la parte di servizi che vengono abilitati dall'utilizzo dei dati meteorologia per esempio le previsioni del tempo utilizzano dati dei satelliti il nostro navigatore che abbiamo sul cellulare quando la mattina andiamo al lavoro quindi usiamo i dati dei satelliti americani adesso anche di quelli europei e quindi questo è tutto il downstream quindi che è diciamo la parte più promettente dal punto di vista di ritorni e poi quello che l'OECD chiama space derived che sono praticamente le attività che utilizzano il dato spaziale ma non dipendono unicamente dal dato spaziale e quindi stiamo lavorando con l'OECD da qualche tempo un po' di numeri questi non sono nostri quindi diciamo sono queste qui della Space Foundation vedete quanto è cresciuta l'economia spaziale al 2007 al 2000 diciamo se qui era un dato la linea tratteggiata rossa si passa da circa 200 miliardi e siamo arrivati adesso vedete la crescita costante le ultime barre sono le previsioni per i prossimi anni e qui vi faccio vedere un po' le stime attuali ci sono varie stime non coincidono molto però diciamo siamo intorno nel 2000 alla fine del 2023 intorno ai 500 miliardi globalmente quindi a livello mondiale ci sono varie stime come dicevo prima Space Foundation Euroconsult Abrice l'ESA l'ESA è l'agenzia spaziale europea e poi il World Economic Forum che è la più alta di tutti quindi siamo intorno a quel valore lì questa è un po' la ripartizione tanto questa poi credo rimanga agli atti inutile che non la descrivo tutta giusto per far vedere che diciamo la parte più rilevante è quella ecco qua si vede meglio questa qui è una stima di Euroconsult vedete loro lo calcono intorno ai 460 miliardi dove ci sta la parte commerciale 362 e la parte di spesa pubblica sono 100 miliardi però vedete che tra upstream e downstream se vi ricordate quello che ho detto prima quelli di downstream sono i servizi e le applicazioni generate all'utilizzo dei dati spaziali il vero mercato è lì e infatti vedete il 97% del mercato commerciale chiaramente gli Stati Uniti la fanno da padrone e questa è l'altra stima questo è il World Economic Forum più o meno siamo sempre sulla questa è la più alta di tutti però è quello che qua loro chiamano il reach quindi diciamo che essenzialmente il downstream è la parte più rilevante questa è la loro stima di crescita dal 2023 al 2035 quindi secondo loro si passa quasi si triplica da 600 miliardi a 1800 miliardi qui vengono riportate varie stime sono un po' altallenanti però diciamo la cosa certa è che dal 2007 come ho fatto vedere prima dai 200 miliardi siamo intorno ai 500 ci sarà ancora una crescita ulteriore nei prossimi anni si dice che si arriverà a 1000 miliardi nel 2035 non nel 2040 chiaramente questa qui invece la prossima è la meno accurata di tutti però a un certo punto mi chiedevo ma per 500 miliardi ma sì sembrano tanti noi spaziati 500 miliardi sono tanti ma rispetto all'economia globale quanti sono cioè veramente lo spazio quanto Cuba rispetto all'economia globale voi forse il numero ce l'avete ripeto sono numeri che abbiamo preso un po' di qua un po' di là quindi non sono forse strutturati nella migliore dei modi però diciamo che l'economia globale mondiale nel 2023 il numero che abbiamo trovato sono 105 trilioni quindi 105 trilioni di dollari lo spazio abbiamo detto prima sono 0,5 il che vuol dire che lo spazio sta nell'economia globale vale un 0,5% poi allora abbiamo visto ma rispetto ad altri ad altri settori quant'è lo spazio allora se vediamo con la salute la salute sta intorno ai 7 7 7 7 trilioni il viaggio e turismo sta intorno a 6 7 adesso non vedo bene l'aviazione quindi la parte aeronautica è molto più alta li vedete sono tutti molto più alti automotive digital economy la difesa pure abbiamo messo il gaming il gaming è circa a metà dello spazio quindi per dire l'industria dei videogiochi è rilevantissima rispetto allo spazio sembrerebbe magari una cosa molto diffusa un po' come i cellulari insomma questo è giusto per dare un'idea di quanto lo spazio che a noi sembrava fosse veramente la cosa più importante al mondo invece effettivamente 0,5% dell'economia globale un quadro un po' su come siamo in Italia in Italia abbiamo circa 300 aziende spaziali circa 8000 impiegati abbiamo 3 associazioni di categoria 15 distretti tecnologici aerospaziali un cluster nazionale aerospaziale e abbiamo 5 incubation center che facciamo finanziamo noi italiani attraverso l'agenzia spaziale europea qui diciamo i numeri vedete abbiamo sempre messo circa perché poi effettivamente sulle aziende le aziende stiamo facendo adesso una mappatura più completa sugli impiegati e sulle figure complessive del fatturato spaziale non abbiamo numeri certi ed è il motivo per cui abbiamo cercato la collaborazione con l'ISTAT e quindi è per noi fondamentale usare le metodologie dell'ISTAT per avere una mappatura migliore fra l'altro ci ha chiesto pure il governo c'è una nuova governance in Italia per lo spazio per cui le linee guida vengono il coordinamento delle attività spaziali è passata a livello del primo ministro dal 2018 questo quindi ci sta un comitato di ministri che si chiama comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali che ci ha detto per favore fateci una mappatura esatta cerchiamo di identificare bene come è fatto il settore spaziale quindi in termini di impiegati di fatturato e tutto quanto per avere poi la possibilità di contribuire ulteriormente motivo per cui stiamo facendo degli studi con varie università e per noi il punto chiave è diventata appunto questa collaborazione con l'ISTAT tra l'altro c'è una nuova legge non so se avete sentito ma pochi giorni fa uno degli ultimi consigli dei ministri ha approvato il disegno di legge che per una legge spaziale perché in Italia avevamo questo problema della legge spaziale per cui certe attività fatte dai privati non erano poi certificate da nessuno quindi venivano lanciati i satelliti senza che nessuno li certificasse e noi avevamo come ASI l'obbligo di iscriverli nel registro rimatricolarli in un registro internazionale chiudo con gli ultimi due o tre numeri che ripeto non sono sicuramente accurati come dovrebbero essere però praticamente noi abbiamo avuto come ASI come agenzia spaziale italiana un incremento del bilancio quindi il governo ha attribuito negli ultimi anni negli ultimi dici anni grande attenzione allo spazio siamo passati da circa 600 miliardi a 1 miliardo e 8 in meno di 10 anni e diciamo quindi questo qui spiega bene l'attenzione che c'è a livello governo devo dire questo è veramente bipartisan non abbiamo mai avuto riduzioni del bilancio proprio perché poi anche questo è un altro numero che è un po' ballerino però come ritorno all'investimento si dice che un euro investito allo spazio genera 4-5 euro qualcuno dice 7 euro qualcuno ha detto 11 però sicuramente diciamo tenuto conto della tecnologia molto d'avanguardia l'investimento nel settore spaziale sicuramente ha ricadute anche in settori adiacenti credo più o meno avrebbe detto tutto e ho lavorato di un minuto grazie grazie Augusto e dallo spazio passiamo a materie molto più terrestre hai fatto un errore Augusto hai detto che avete avuto un enorme incremento di bilancio di fronte a uno che controlla i conti tu non hai sentito Flavio la parola Flavio Padrini ufficio parlamentare di bilancio mi hai rubato la battuta ma non per noi più no ringrazio l'Istat dell'invito mi avete dato un compito abbastanza complicato cioè di mantenere l'attenzione tra i fuochi d'artificio della Space Economy poi dopo c'è l'intervento di Piero Cipollone su intelligenza artificiale e politica monetaria poi le statistiche sullo sport che penso insomma sia imperdibile in generale e adesso ci sono le europee di calcio più seriamente effettivamente vi devo riportare su un argomento molto più noioso però importante oggettivamente che è quello del nuovo fatto di stabilità e crescita non ho il tempo in 12 minuti di spiegare tutti i dettagli e nemmeno devo dire in termini generali e quindi mi concentrerò solo su un aspetto infatti ho solo una slide e che è questa vado subito al solo diciamo se ci riesco che non c'è era solo questa era questa qua eh? devi girare ah vabbè poco pratico eccola e no però due parole sull'ufficio parlamentare di bilancio è uno delle istituzioni di bilancio indipendenti della UE ovvero dei fiscal council detti in gergo diciamo in inglese e la UE ci assegna alcuni compiti già ce li assegnava prima con il precedente patto di stabilità e adesso ne abbiamo altri quello su cui mi vorrei concentrare oggi è il monitoraggio di dell'indicatore unico per la sorveglianza multilaterale quindi all'interno di tutta questa diciamo mondo che è il patto di stabilità e crescita e quindi diciamo l'obiettivo principale è quello di assicurare la sostenibilità del debito il tutto poi si concentrerà su questo indicatore ripeto non ho il tempo di spiegarvi il perché di questo poi magari però è così e quindi in qualche modo uno degli obiettivi della riforma che era quella di semplificare effettivamente stava raggiunto perché il tutto si concentrerà sul monitorare il rispetto dell'andamento di questo indicatore spesa netta rispetto a quanto il governo avrà detto all'inizio di tutto questo processo il processo cioè la procedura insomma inizierà di fatto entro settembre quando il governo presenterà un piano strutturale di bilancio in cui ci sarà appunto un un sentiero di spesa netta che è quel sentiero che ti permette poi di avere un debito sostenibile nel meglio termine quindi tutto quelli altri indicatori tipo il saldo strutturale lo stesso debito la stessa riduzione del debito eccetera staranno un background però non saranno l'oggetto del monitoraggio ok tutto si ripercuota su questa definizione qua allora evidentemente quindi questo indicatore assumerà un'importanza di politica economica fondamentale e perché ne parlo oggi perché l'istat sarà protagonista nei dati a consuntivo nello stabilire poi alcuni di questi di questi delle componenti che compungono la spesa netta allora la definizione perché è netta perché è la spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi al netto della spesa questa è la definizione ufficiale al netto della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione che un po' io avrei preferito dai trasferimenti dell'Unione perché sono i trasferimenti diciamo sussidi chiamiamoli così poi al netto della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione questo è già un po' più semplice poi c'è una componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione misure discrezionali sul lato dell'entrata e misure una tantum tutto questo deve essere iniettato allora iniziamo da vado componente per componente ok allora iniziamo dall'aggregato ah l'aggregato il settore di riferimento è quello delle pubbliche amministrazioni per questo ne parliamo qui perché è l'amministrazione pubbliche amministrazioni pubbliche di contabilità nazionale la lista S13 quindi quello è il settore di riferimento allora spesa pubblica totale già è prodotta e come dire pubblicata tempestivamente in linea con il semestre europeo quindi con il processo di sorveglianza multilaterale spesa per interessi uguale quindi qui non mi soffermo o poi c'è la spesa per i programmi dell'unione interamente finanziata dai trasferimenti dell'unione questo in gergo mi è stato detto dalle colleghe dell'istat viene chiamato flussi UE ed è un dato che l'istat già produce già produce ma non pubblica però ovviamente vengono notificati all'Eurostat i dati per poi produrre i conti delle amministrazioni pubbliche viene prodotto il dato ufficiale sulla base di informazioni della ragioneria generale dello Stato che a sua volta le acquisisce dagli enti di spesa cioè coloro che attuano i programmi gli enti pubblici gli enti pubblici di spesa che attuano i programmi finanziati appunto dall'Unione sono dati che diciamo vengono rivisti spesso nel tempo molto abbastanza nel tempo perché agli enti viene data la possibilità di rivedere i dati iniziali e penso che sia uno dei motivi per cui l'istat decide di non pubblicarli quindi qui diciamo data l'importanza che avrà questo aggregato sarebbe opportuno un miglioramento del processo di diciamo trasmissione dei dati all'origine da parte degli enti di spesa in modo da permettere poi a valle alla ragioneria e all'istat di produrre un dato di qualità e tempestivo per permettere la poi la pubblicazione e la sorveglianza l'altra componente è la spesa nazionale con il finanziamento di programmi finanziati dall'Unione non viene ancora prodotta dall'istat ma non perché perché diciamo è una cosa nuova tra l'altro mi sembra chiesta da vari stati membri di nettare questa componente qua tra cui penso a sentire dalle dichiarazioni del governo anche dal governo italiano e però l'eurostat che ovviamente ha il coordinamento di tutto questo per assicurare la qualità del dato la comparabilità del dato e quindi insomma il più possibile un come chiamano level playing field nel monitoraggio è già al lavoro cioè insomma deve cominciare a lavorare comunque già nel programma di lavoro ecco diciamo così però qui c'è del lavoro da fare da parte di Eurostat delle autorità nazionali statistica sperabilmente in tempi relativamente brevi nel frattempo i ministeri delle finanze possono usare i dati a loro disposizione però chiaramente lì ogni ministero avrà le sue procedure non è ottimale è importante che l'Istat insomma e Eurostat si impegnino su questo poi si viene alle cose meno vicine all'Istat che però vi voglio comunque spiegare l'altra componente è la componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione i sussidi di disoccupazione sono quelli effettivamente COFOG quindi prodotti di nuovo dall'Istat arrivano però un pochetto in ritardo rispetto alle esigenze di monitoraggio perché quelli dell'anno T-1 arrivano di solito a dicembre dell'anno T mentre il semestre europeo richiederebbe una pubblicazione nella primavera dell'anno T quindi ci vorrebbe uno sforzo se possibile uno sforzo per anticipare la trasmissione euro è stata anche la pubblicazione la componente ciclica poi invece viene stimata dai ministeri delle finanze e dalla commissione attraverso diciamo la stima del Nairu insomma stime econometriche su cui non mi soffermo però è importante diciamo l'input iniziale da parte di nuovo degli istituti di statistica le ultime due componenti veramente non mi soffermo perché sono stime dei governi e della commissione le misure discrezionali sono l'impatto finanziario di nuove misure dal lato delle tasse dal lato delle entrate appunto quindi sostanzialmente ricavati dalle relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi chiaramente poi vengono usati i dati Istat però insomma dipende dal tipo un lavoro più microeconometrico o microeconomico diciamo più che macroeconomico e l'ultimo sono le misure una tantum che la commissione sostanzialmente cerca di uniformare tra stati membri il più possibile insomma non sempre con questo è possibile però ora non mi dilungo su questo c'è un elemento di discrezionalità abbastanza importante quindi definire su come so definire come una tantum e cosa e cosa no questo è un po' diciamo il quadro il quadro nel minuto che mi rimane così vorrei concludere dicendo che chiaramente questo è un indicatore importante c'è bisogno come spiegavo prima di una collaborazione di tutti gli enti decentrati soprattutto di spesa dei programmi dell'unione per fornire dati di qualità per permettere poi a valle di avere dati migliori poi anche riferendomi a quello che diceva Giovanni all'inizio penso anche che ci sia bisogno di risorse all'istat per produrre tutte queste cose in tempi utili per il monitoraggio e quindi diciamo condividiamo con voi l'esigenza di un maggiore cioè che ci sia sicuramente attenzione a spese economi ma anche a chi poi va a misurare i fenomeni non solo da spese economi ma anche di finanza pubblica l'imperazione di finanza pubblica con questo ho finito grazie Flavio dopo aver sentito il tuo intervento credo che rimarremo tutti con una grande domanda che qui potremo rispondere solo a settembre ma il piano del governo che sarà presentato a settembre si baserà sulla spesa netta pre-benchmark o after benchmark vedremo con questo grazie ai nostri relatori grazie a voi per essere rimasti e buon pomeriggio a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti